Buongiorno a tutti e bentrovati. In questa lezione di storia parliamo della cosiddetta rinascita dell'Occidente dopo l'anno 1000. A partire da questa data infatti possiamo dire che la situazione europea cambia notevolmente. Innanzitutto iniziano a diminuire progressivamente fino a scomparire del tutto, a terminare del tutto, le incursioni di popoli esterni, quindi in particolare di saraceni da sud, gli ungari da est e i normanni da nord. Quindi questo fa sì che i signori feudali, i re e gli imperatori possano rafforzare il loro potere e possano diminuire anche ovviamente le guerre di difesa da queste incursioni esterne. In tutta l'Europa abbiamo quindi proprio un movimento di rinascita e il primo dato che registra un importante cambiamento è quello demografico. La popolazione europea aumenta sensibilmente e anche se non ci sono dei dati certi diciamo alla singola unità perché all'epoca non si usavano i censimenti, gli storici hanno stimato che intorno all'anno 1000 vivessero in Europa circa 40 milioni di abitanti e che si sia arrivati a raddoppiare questo numero intorno al 1300. Quindi questo significa che a partire dal 1000 e per tre secoli la popolazione europea aumenta progressivamente fino addirittura a raddoppiare. Ecco ovviamente è un insieme di fattori che porta a questo cambiamento così importante. In realtà alcuni dati di ripresa demografica c'erano già stati a partire dalla metà dell'ottavo secolo quando era terminata un'epidemia di peste, quindi siamo intorno a 742-743 e per diversi secoli non si erano avuto e non si avranno più gravi epidemie, bisognerà aspettare la peste del 1348 per avere un episodio particolarmente importante. Quindi sicuramente già questo dato a livello epidemiologico ci dà un indizio insomma di uno dei fattori che certamente hanno contribuito al miglioramento delle condizioni di vita. Naturalmente però non si tratta dell'unico fattore da tenere in considerazione. Quando abbiamo un aumento della popolazione abbiamo sempre una o perlomeno insomma quando questo aumento è così consistente abbiamo sempre il sovrapporsi di diversi fattori. Quindi sicuramente la diminuzione della mortalità che è una diretta conseguenza della diminuzione delle epidemie ma anche l'aumento delle nascite e l'aumento della speranza di vita e quindi della durata media della vita. Questi fattori che si verificano tutti e tre a partire dall'anno 1000 sono legati ad una serie di novità che prendono l'avvio in questo periodo. Abbiamo l'invenzione di nuovi strumenti agricoli, l'introduzione di nuove tecniche agricole e anche la messa a cultura di nuovi terreni. Quindi è proprio dall'ambito agricolo che inizia la ripresa anche perché chiaramente dalla coltivazione del terreno dipende in senso stretto la sopravvivenza della popolazione. Analizziamo allora uno ad uno questi punti. Partiamo quindi dall'introduzione dei nuovi strumenti agricoli. Nell'undicesimo secolo abbiamo una serie di invenzioni che va a migliorare il modo proprio di lavorare dei contadini. Innanzitutto viene modificato il collare, il gioco degli animali da tiro quindi cavalli e buoi. Nell'antichità il gioco degli animali da tiro era costituito sostanzialmente da una fascia che girava intorno al collo e alla pancia dell'animale e faceva sì che nel momento in cui l'animale tirava si sentisse soffocare quindi respirava con fatica e ovviamente oltre a soffrire diciamo rendeva anche poco da un punto di vista lavorativo. Intorno al mille si diffonde un nuovo tipo di collare rigido che si appoggia sulle spalle dell'animale non più al collo e quindi consente all'animale di respirare con più agio anche quando è sotto sforzo quindi aumenta il benessere dell'animale e ovviamente anche il suo rendimento nel momento in cui tira l'aratro. Un'altra miglioria consiste nel fatto che si comincia a ferrare gli zoccoli dei cavalli quindi a proteggere con un ferro che viene inchiodato sull'unghia della zampa lo zoccolo del cavallo in modo tale che la presa sul terreno possa essere migliore. Altra grande novità che viene introdotta sempre in ambito agricolo è l'aratro pesante quindi un aratro costruito in ferro più pesante di quello in legno che era usato fino a quel momento e che è quindi in grado di tagliare più in profondità il terreno rivoltando bene le zolle e quindi consentendo un migliore sfruttamento proprio del suolo. Al termine della semina inoltre veniva passato sul campo uno strumento chiamato erpice che era una sorta di grosso rastrello e che serviva sia a richiudere i solchi quindi facendo penetrare bene i semi nella terra sia ripulire il suolo dalle erbacce e dalle malerbe che così non soffocavano o comunque insomma si diffondevano di meno e evitavano di soffocare le pianticelle appena nate. Anche la falce che era uno strumento di lavoro già diffuso da moltissimi secoli addirittura dall'età neolitica viene perfezionata quindi viene costruita un'impugnatura più funzionale e quindi anche il taglio delle piante erbacee migliora. Ecco a queste innovazioni in ambito strettamente agricolo se ne affiancano altre sempre che riguardano l'aspetto tecnico e che riguardano l'introduzione del mulino ad acqua e a vento. In realtà il mulino era già conosciuto nell'antichità dai romani però è soprattutto a partire dall'anno 1000 che si diffonde in tutta Europa quindi che se ne comprendono le potenzialità quindi tutta una serie di utilizzi fino a quel momento ignorati quindi il mulino viene usato per macinare il grano ma anche per spremere le orive per azionare dei mantici che servono a fondare metalli per far girare le pompe per prosciugare i terreni e così via. Quindi iniziano a prendere forma a tutte delle tutti degli utilizzi che fino a quel momento non erano stati presi in considerazione. Il mulino ad acqua si diffonde soprattutto nell'Europa centro-medionale che è ricca di corsi d'acqua erano muniti in linea d'acqua di ruote pescanti quindi ruote che erano immerse nell'acqua solamente con la parte inferiore ed erano formate da grandi pane in legno. Verso la fine poi del medioevo vengono collocate anche sotto delle piccole cascate naturali o anche create artificialmente in modo tale che il rendimento potesse aumentare quindi si comprende che appunto questo questo espediente consente di avere un rendimento migliore e anche le pale che inizialmente erano piatte vengono modificate quindi assumono una forma semisferica aumentando ulteriormente la resa di questo sistema rotante. A partire dall'undicesimo secolo compaiono in Europa anche i primi mulini a vento quindi mulini eolici ovviamente costruiti nelle zone dove il vento è più presente quindi lungo i litorali prevalentemente del mare del nord e dell'oceano atlantico. Questi mulini erano costituiti da un asse verticale a cui venivano attaccate delle vele di tessuto e l'asse era incastrato in una macina in modo appunto da sfruttare l'energia che veniva prodotta e in seguito vengono inventati anche mulini ad asse orizzontale con delle pale in legno e tessuto che sono simili erano simili a quelli che ancora oggi possiamo trovare nei paesi bassi. Un'altra consistente miglioria che viene introdotta in questo periodo riguarda proprio le tecniche agricole ed è il passaggio dalla rotazione biennale a quella triennale. Allora vediamo innanzitutto che cos'era la rotazione biennale. Essa consisteva in una tecnica di coltivazione del terreno che vedeva la divisione dello stesso terreno in due parti. Una veniva coltivata con un prodotto in genere cereali quindi ad esempio grano e l'altra invece veniva lasciata a maggese si dice ossia riposo quindi su questa parte che in genere era lasciata a pascolo cresceva ovviamente l'erba che veniva poi falciata nel mese di maggio per questo si dice maggese. L'anno successivo veniva invertita veniva invertito l'utilizzo delle due parti del campo quindi quella che l'anno precedente era maggese veniva coltivata con i cereali e quella che era cereali veniva girata a maggese. Questo faceva sì che metà del terreno fosse sempre inutilizzato e inoltre le coltivazioni erano abbastanza povere ecco cereali ovviamente anche delle verdure venivano già coltivate non dobbiamo pensare che nel medioevo ci si ci basse solo di cereali ma era comunque una una rosa di prodotti piuttosto ridotta. Dopo il mille si comincia a dividere i terreni in tre parti quindi mantenendo su una prima parte diciamo su un primo campo sempre la coltivazione dei cereali quindi grano o altri tipi di cereali che erano diffusi all'epoca la seconda parte a legumi quindi ad esempio fave fagioli piselli eccetera e nella terza parte si manteneva il maggese. Questo faceva sì che il rendimento aumentasse notevolmente sia perché la parte incolta era solamente un terzo e non più la metà dell'estensione totale dei terreni sia perché i legumi e i cereali sfruttano il terreno in maniera differente quindi il fatto di alternare una maggiore varietà di coltivazioni sulle diverse aree faceva sì che il terreno si impoverisse di meno. Oltretutto anche l'alimentazione dei contadini diventa più varia non a caso i legumi vengono chiamati la carne dei poveri perché sono molto proteici e quindi questo fa sì che la popolazione anche negli strati più bassi si possa nutrire meglio. Ecco questa introduzione della rotazione triennale fa sì che aumenti la produttività dei terreni e che quindi ci siano anche delle eccedenze di prodotto. Ecco un altro dato importante sempre relativo alla rotazione è quello che i cereali e i legumi si arrivano a maturazione in momenti diversi dell'anno quindi i cereali si raccolgono alla fine dell'estate in estate mentre i legumi alla fine della primavera. Questo faceva sì anche che ogni anno si potessero avere due raccolti e che quindi si potessero compensare meglio i danni derivanti da un'eventuale carestia con un raccolto a distanza di qualche mese e non di un anno solare intero quindi anche questo era un dato positivo. Ecco poi dicevo appunto le eccedenze potevano essere commerciate quindi scambiate col baratto o anche vendute nei villaggi vicini e questo fece sì che pian piano si cominciasse a reintrodurre la moneta che era molto usata durante l'impero romano e che aveva invece subito un forte calo nell'utilizzo durante i secoli dell'alto medioevo. Ecco l'ultimo aspetto legato alla rinascita dopo l'anno 1000 è quello che vede la progressiva deforestazione e la nascita di nuovi villaggi. Quindi in Europa si calcola che fra il 950 e il 1250 lo spazio coltivato sia cresciuto circa di tre volte questo perché alla fine del nono secolo l'Europa si presentava fondamentalmente ancora come una grande estensione di foreste che qua e là erano interrotte dalla presenza dei villaggi e la ricerca di nuove terre coltivabili ovviamente imponeva la necessità di deforestare o addirittura di bruciare interi boschi è una cosa che oggi ci farebbe non ridire all'epoca la popolazione era molto molto meno numerosa e le risorse naturali erano veramente ingenti rispetto ai giorni nostri quindi si deforestava e si bruciava senza che ciò venisse assolutamente percepito come un problema anzi al contrario. Quindi molti nuovi villaggi sorsero proprio sui resti di questi antichi boschi e il nome stesso testimonia l'origine di queste località quindi ad esempio Querceto da Quercia, Rovereto da Rovere, Luco dal latino Lucus che significa bosco e così via. In genere il proprietario di questi luoghi che era sempre un signore feudale quindi laico o anche un'autorità ecclesiastica o monastero oltre a dare l'autorizzazione a costruire un nuovo villaggio concedeva anche ad ogni famiglia un appezzamento di terreno ad uso esclusivo quindi faceva sì che ogni famiglia potesse avere dietro alla propria abitazione una parte di terreno da cui trarre sostentamento. A queste operazioni di deforestazione se ne affiancano poi delle altre di bonifica di territori fino a quel momento paludosi quindi molti contadini si occupano proprio del risanamento di queste zone riuscendo a fare in modo che possano essere messe a cultura. Chiaramente anche il maggiore uso del ferro nella costruzione degli attrezzi da lavoro ha favorito questo processo perché ha permesso ai contadini di poter svolgere in modo più agevole dei lavori che fino a quel momento erano se non impensabili quantomeno molto molto faticosi. Ecco con questo abbiamo terminato questa breve panoramica sugli elementi che hanno portato allo sviluppo, alla rinascita dell'Europa dopo l'anno 1000. Spero che abbiate trovato utile questa lezione e vi invito a continuare a seguire il canale per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti. Vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e alla prossima! Grazie a tutti! Grazie a tutti!